Amici dei motori, eccoci arrivati alla nostra rubrica di studio Parliamone. Questa sera ancora solo con due persone della redazione, il sottoscritto è Gabriele Milchi. Ciao Gabriele. Ciao a tutti. Perché è ancora giustificato assente il buon Alessandro Bugelli, perché ha troppe cose da fare. No, scherzo, comunque me l'ha accennato già prima del fine settimana e purtroppo era un impegno datato e come tale non poteva assolutamente mancare o cercare di bypassarlo. Quindi eccoci alla nostra discussione a cielo aperto, anzi a microfoni aperti, e come tale vi passo subito una notizia di primo pelo, ma fresca fresca, come avrebbe detto il buone Zio Greggio, fresca fresca da leccarsi le orecchie. Quindi da due giorni il segnale di Toscana TV è attivo anche in tutta la Garfagnana. Questo direte voi che non abitate in Garfagnana. Che problema è? È un problema perché la Garfagnana è un pezzo della regione Toscana ad alta densità realistica e per la nostra trasmissione ha un bacino di utenza veramente importante. Quindi il 18 vuol dire che tutti gli appassionati di motori devono mettere una loro sveglia subito dopo la mezzanotte del giovedì, che è l'orario in cui noi andiamo in onda sul 18 come primo passaggio settimanale. Qui poi seguono due repliche nel weekend, una al sabato e una alla domenica. Comunque per noi è molto importante perché abbiamo insistito tanto sull'editore che ha fatto questo sforzo e quindi da 48 ore e da qui in poi saremo visibili anche in Garfagnana. Veniamo quindi alla nostra consueta rubrica di gossip di cui Gabriele è maestro e gli lascio sia la palla sia le telecamere.